Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali. La mia musica è una mia passione, non è la mia professione. Oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar. Ho 70 anni, vino in Italia, sulle denomiti dell'Oleosin che è precisamente il Cadore. Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali.